Ciao a tutti, io mi chiamo Stefano, sono un organista, quindi mi occupo di musica antica, quella che si chiama tra virgolette musica classica, eppure sono qui per condividere con voi un pensiero. Nel mio percorso artistico mi sono incontrato con Gio Ximini e con la sua musica, con la sua passione, la sua voglia di interpretare, di condividere emozioni. Emozioni è una parola che adesso va tantissimo ed è veramente abusata, no? Viene dal latino exmovere, muovere dal basso un qualcosa di profondo. Ecco, io ascoltando la musica di Gio Ximini, il modo in cui lo interpreta, questo calore, questa voce calda, ricca di armonici, chi è del mestiere mi capisce, è così. Mi sono emozionato e questa è una cosa molto bella. Perché sono qui? Perché vorrei incitarvi, invitarvi anche voi a partecipare a questo crowdfunding perché egli possa realizzare il suo disco che avrà un inedito più le cover e io sono sicuro che voi come me, perché anch'io partecipo, vi iscriverete a MusicRacer per essere così, partecipi attivi, partecipanti di questo progetto. Perché sappiate che le cose belle, quando vengono fatte, le azioni buone, le azioni belle, quando vengono fatte tornano indietro con gli interessi. Io sono sicuro che un disco di Gio Ximini è un gran bel regalo che vi farete. Ciao a tutti!